Ehi, possibile acquirente. Sì, dico proprio a te. Tutto questo potrebbe essere già tuo. Dici davvero? Potrebbe essere mio? Sì, proprio così, approfitta oggi della straordinaria offerta Nacoccar. La Corp si prende cura dei suoi clienti bisognosi. Davvero? Alla Corp interessano i miei problemi? Certo. La Corp sarebbe disposta a sacrificare milioni per i suoi fedeli clienti. Lasciami pensare. Perché no? Potrebbe essere buona? Certo che lo è. Se offendi la Corp offendi me. Certo che no. Non volevo offenderti. Comprerò Corp? Sì, ma vieni. Gentile pubblico, applaudite la qui presente cliente Corp. Grazie. 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 Grazie.